Ad aprire il 18 maggio saranno anche le strutture termali che in Calabria rappresentano un'importante attrattiva turistica. Vediamo come si preparano a ripartire le terme sibarite di Cassano all'Oiolio. Emilia De Simone. Pronti a riaprire in sicurezza, le strutture termali calabresi vogliono ripartire seguendo tutte le norme anticontagio. Rischiate di iniziare un po' tardi? Sì, sicuramente sarà un anno molto difficile per il complesso termale in Calabria. ma ritengo per il turismo in generale. Nelle passate stagioni in questo momento le strutture termali offrivano già servizi importanti. Sarà una stagione da recuperare, ci auguriamo che ci sia un riscontro, un aiuto da parte del governo e della regione. Il termalismo in Calabria rappresenta non solo un importante servizio sanitario. E questa è la nuova zona spa che verrà inaugurata tra poco, che dà tanti servizi per il benessere, tra cui una piscina con idromassaggio. In questo momento un'opportunità storica di combattere gli effetti negativi occupazionali del post-Covid. Il termalismo in Calabria offre un determinato numero di PIL e garantisce appunto quelli che sono i livelli occupazionali, anche perché il termalismo è un settore dove la destagionalizzazione è per eccellenza. Chiedono un rilancio dell'offerta termale calabrese ed un'attenzione speciale al turismo di prossimità. Un mercato interno che nella fase 3 la farà da padrone nel rilancio economico regionale. Questa emergenza sicuramente dà al termalismo un ruolo importante perché quando si parla di turismo domestico, di turismo di prossimità, il termalismo è una parte importante.